ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul canale di jored prima di proseguire con il video vi invito se vi va di mettere like al video e iscrivervi al canale per avere altri aggiornamenti iniziamo è andata in onda una nuova puntata del grande fratello puntata dove è stato eletto il terzo finalista ma non solo infatti ci sono state due eliminazioni la prima eliminazione è stata data dall'ultimo televoto in atto di questa settimana dove anita chi ha avuto la peggio il secondo invece è stato decretato dal televoto flash scegli il finalista tre erano i concorrenti in gara e il meno votato è stato eliminato mentre il più salvato è diventato finalista i concorrenti erano giuseppe massimiliano e paolo quest'ultimo è eliminato mentre massimiliano è il terzo finalista e voi chi avete votato siete d'accordo con il risultato del televoto scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento ho concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio alla prossima